Così almeno ci insegna che azzeca qualche cosa Almeno una in italiano imparerò Una su tre minuti di canzone la dobbiamo prendere Insomma ragazzi Noi vi salutiamo perché il nostro tempo purtroppo è già scaduto Oh mio Dio Oh mio Dio È scaduto il tempo Insomma ragazzi noi salutiamo tutti Ringraziamo i nostri ascoltatori di oggi Dabiamo quelli dell'altra volta Ragazzi ci avete fatto fare il botto Adia ormai è la mia fan Adia E' una tua fan tua e dei tuoi peli ormai E non ti depilare Che a Asia piaci così come sempre Ti stimo l'appuntamento dall'estetista E mi lascio trasferire Anche l'insalinas Dice che vai bene pelosa Allora che sono io per dire che ti devi depilare Ok contro uno Ma io ve la do vinta avete ragione Vabbè non si io Ve la do vinta ma non ve la dare Ma va bene Tra parentesi Grazie a tutti ragazzi Grazie a Chris Singh Grazie davvero Grazie Grazie mille E mi raccomando Seguiteci con le bla 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 Seguiteci su Mongolandia Insomma seguiteci in generale Seguiteci per strada Seguiteci per strada Che mi fa piacere E allora ci sentiamo Martedì 26 Però ve lo diciamo subito Non dalle 19 alle 20 Ma dalle 19 e 30 Alle 20 e 30 Cioè si va indietro noi Time works Dalle 19 e 30 Alle 20 e 30 Perché io ho un impegno inderogabile Della università di merda Ciò da fa Quindi ci sentiamo Martedì 26 aprile Alle 19 e 30 Con Mongolandia Wuhuuu 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 Basta che trochi un voce Saka Ruta che vende da mangiamento Sto male